tifosi bianco e celesti ben ritrovati con entella time il notiziario per non perdersi nulla di tutto ciò che accade nel mondo entella ci avviciniamo all'ultima giornata del campionato di serie c now domenica alle ore 20 entella scenderà in campo al comunale per giocare una parete importantissima in casa collare canatese entella che questa mattina si è allenata al comunale ma da oggi soprattutto sono in vendita i biglietti per assistere all'ultima sfida di campionato canali come sempre ve li ricordiamo www.entella.it per leggere tutti i prezzi e acquistare il vostro tagliando online all'entella point che sarà aperto sino a sabato mentre domenica tutto il giorno come sempre sarà attiva la biglietteria dello stadio apriamo adesso una pagina dedicata al settore giovanile in particolare oggi vogliamo parlare di papati un calciatore cresciuto proprio nel vivaio bianco celeste un ritiro anche con la prima squadra a tavarone quest'estate poi ad agosto un grave infortunio che l'ha tenuto lontano dai campi per tanti mesi ha sofferto molto l'attaccante bianco celeste che però sabato è entrato in campo a 10 minuti dalla fine della sfida a monopoli con il monopoli e dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo ha anche segnato andiamo a sentire un estratto di una sua intervista che potrete poi ascoltare in versione integrale domani sui nostri canali social ho sofferto tanto perché diciamo che è stato un fulmine a ciel sereno non me lo aspettavo sono grato alla società per la disponibilità e per come mi ha mi ha aiutato nei mesi di riabilitazione mi sono lasciato dietro tutti i momenti brutti che che ho passato in questi sette otto mesi è stata una liberazione perché non vedevo l'ora di di entrare in campo e di dare il massimo per per la squadra questo era papatune lentella time torna venerdì puntuale alle ore 19 a l'ora di Grazie per la visione!